e anche alle persone collegate da casa e fra queste in particolare vorrei salutare e ringraziare la vedova di Antonio Tabucchi Maria José de Rancastre che ha avuto la gentilezza affettuosa di collegarsi a questa seconda lezione Tabucchi è una tradizione appena inaugurata ma a cui teniamo molto l'abbiamo inaugurata l'anno scorso con la prima lezione Tabucchi tenuta da Emanuele Trevi sempre in quest'aula e quest'anno invece abbiamo ospite Te Arimini l'idea è di fare ogni anno una lezione Tabucchi, Tabucchi è stato come tutti sapete uno dei due grandi scrittori e intellettuali che hanno illustrato la nostra facoltà di lettere di Siena, il nostro dipartimento l'altro essendo ovviamente Franco Fortini, Franco Fortini ha un centro studi a lui dedicato qui nel nostro dipartimento ci sembrava giusto che anche Tabucchi avesse proprio una presenza simbolicamente forte ogni anno nei nostri lavori e quindi un anno inviteremo uno scrittore e un anno un critico, l'anno scorso Trevi era uno scrittore, quest'anno Te Arimini una studiosa e abbiamo iniziato dalla più accreditata, più importante studiosa di Tabucchi, basti dire che è l'autrice del Meridiano delle opere di Tabucchi ha scritto anche un libro su Tabucchi, album Tabucchi e la cultura visuale, le immagini ha scritto numerosi articoli su Tabucchi, ha scritto anche un altro libro più recente su letteratura e cinema è una studiosa che si muove appunto fra studi letterari e arti visive e cinema ma si muove molto e con grandissima perizia anche fra le carte di Tabucchi e ancora grazie alla generosa disponibilità della vedova ha potuto avere accesso a una serie di materiali inediti di cui ci farà dono oggi, ci saranno alcuni, so, mi ha detto ieri, insomma ci saranno alcuni inediti di cui parlerà in questa lezione e di un inedito invece diciamo è già nella disponibilità di tutti nel senso che lo scorso anno è uscito questo romanzo inedito di Antonio Tabucchi lettere a Capitano Nemo per Mondadori con un complesso lavoro di ricostruzione filologica fatto appunto da Tea Rimini che insegna italiano e letteratura italiana contemporanea all'Università di Mons in Belgio eh ringraziando ancora Tea e ringraziando tutti voi eh chiudo questa breve introduzione e le do molto volentieri la parola grazie grazie per Vigipellini grazie a Guido Mazzoni per avermi invitato a tenere questa lezione Tabucchi in un luogo tabucchiano quindi particolarmente eh significativo e grazie ancora una volta a Maria Sosè dell'Ancastre che mi ha aperto l'archivio privato di Antonio Tabucchi e senza la sua generosità io non avrei potuto tenere questa lezione ma non avrei nemmeno potuto fare il i lavori che sono riuscita a a portare avanti il oggi in realtà vi parlerò del primo Tabucchi un Tabucchi meno conosciuto forse che non è nemmeno ancora conosciuto eh l'idea è che è un po' uno che lo scrittore si definisce uno scrittore quando ci sono dei temi delle ossessioni che ritornano da un libro all'altro quando c'è una sorta di musica di fondo costante e Tabucchi come diceva eh Cesarani è uno scrittore in cui le continuità superano le rotture ciò non significa che Tabucchi non riesca a a spiazzare il il lettore ehm ehm come ad esempio fece con si sta facendo più tardi dopo aver pubblicato eh libri come sostiene Pereira però c'è una nota di fondo una nota di fondo in cui che si può già riscontrare in questi primi testi di eh Antonio Tabucchi e ehm vi ho portato qui una mini una breve eh cronologia in cui eh sono le vi parlo in cui sono illustrati i testi di cui vi parlerò innanzitutto sono le macchine probabili che sono una serie di testi che Tabucchi pubblica nel settantuno settantadue sulla rivista il eh il caffè ma eh in realtà questi testi erano anche eh l'idea era di farli pubblicare in volume unico presso eh Sheeviller e eh è stato ritrovato il dattilo scritto al fondo Sheeviller al centro apice il poi parleremo della bottega dei fischi e vi ho messo vicino invece che un romanzo inedito di di Tabucchi e poi invece trovate sulla diapositiva i testi che vengono scritti in più o meno in quel periodo e che conoscete come Piazza d'Italia nel settantacinque il Piccolo Naviglio nel settantotto e poi c'è la svolta del gioco del rovescio nell'ottantuno ma andiamo con ordine e cominciamo da queste macchine probabili che Tabucchi pubblica sul caffè nel settantuno settantadue questi testi Tabucchi li ripubblicherà nel millenovecentonovantacinque su Micromega e il eh trafiletto che Tabucchi scrive per introdurli è molto è prezioso contiene tante informazioni e quindi ve lo leggo questi testi sono del millenovecentosessantotto risalgono ai miei anni universitari quando studiavo a Pisa con Luciana Stegagno Picchio e Silvio Guarnieri li feci leggere a Silvio Guarnieri, mio professore di letteratura italiana contemporanea amico di Italo Calvino che si occupava allora di quella bella e bizzarra rivista che era il caffè quindi sono testi scritti alla fine degli anni sessanta poi pubblicati nel settantuno settantadue sul caffè e ci sono già delle indicazioni sul contesto in cui nascono Luciana Stegagno Picchio che è l'insegnante di letteratura portoghese di eh Tabucchi a Pisa e Silvio Guarnieri che sarà il suo mentore che sarà il il mentore del primo Tabucchi del Tabucchi eh esordiente ma ehm queste macchine questo è il dattilo scritto di cui vi parlavo prima che è stato ritrovato alla Fondo Sheviller in cui eh Tabucchi le avrebbe dovute pubblicare con quattro collage e un ready made dell'autore e sui collage ritorneremo eh dopo e sempre nella in Micromega eh quindi nel 95 quando Tabucchi lì eh le ripubblica spiega che cosa sono queste macchine probabili vi leggo soltanto le eh la parte iniziale della della citazione e quella finale erano scherzi, abbozzi, progetti che poi in qualche modo ho ripreso nei miei scritti posteriori consegno qui le prove della mia giovinezza avevo venticinque anni, mi piaceva scrivere e non sapevo ancora che sarei diventato uno scrittore quindi queste macchine probabili sono un laboratorio della scrittura tabucchiana sono un laboratorio di temi, di immagini, di situazioni è un Tabucchi ancora giovane, un Tabucchi studente che è alla ricerca di una sua lingua, di una sua voce e che la ricerca confrontandosi con voci altrui e con lingue altrui come tra poco vedremo il ehm la la l'elemento divertente anche di questi testi che sono pubblicati da Tabucchi, da un Tabucchi sconosciuto ancora nel nel settanta nel settantuno, alla fine del numero del caffè su cui vengono pubblicate c'è una sezione dei collaboratori e in questa sezione la redazione chiede a Tabucchi di mettersi in contatto con loro perché questi testi sono arrivati alla redazione tramite Nicolo Gallo al quale probabilmente era stato Silvio Guarnieri a passare le macchine probabili però Nicolo Gallo è morto e non ha la redazione del caffè non ha modo di eh mettersi in contatto con Tabucchi e allora come eh leggiamo nella nella diapositiva ehm viene eh rivolto una nella parte della nella sezione dedicata ai collaboratori eh si parla di Antonio Tabucchi e si dice questo testo ci fu mandato pochi giorni prima della sua scomparsa da Nicolo Gallo il care grande amico il cui rimpianto durerà sempre come tutte le scelte di Nicolo anche questa è stata ottima giudichi il lettore noi non abbiamo avuto la minima perplessità ma fino ad oggi ci è mancato il contatto diretto con questo singolare scrittore l'illuminata mediazione di Nicolo è stata purtroppo interrotta il suo apporto prezioso alla letteratura italiana ad oggi preghiamo quindi Antonio Tabucchi che non sappiamo come raggiungere altrimenti di mettersi in comunicazione con noi. Naturalmente queste parole nel lette oggi in questo mondo iperconnesso in cui viviamo suonano un po' strane però eh sono divertenti e anche fanno capire già che la redazione aveva intuito la qualità dello scrittore e che viene definito come singolare singolare scrittore perché questi scritti sono diversi rispetto alla al Tabucchi che tutti che tutti conosciamo sono un po' più bizzarri come bizzarra la rivista del caffè su cui li pubblica. Evidentemente poi Tabucchi riesce a mettersi in contatto con la redazione e nel numero successivo del caffè abbiamo le notizie di Tabucchi fornite da Tabucchi ehm e nuovamente sono interessanti per il contesto. Eh viene detto Tabucchi millenovecento quarantatré nato a Pisa dove risiede e poi ha pubblicato il petit dictionnaire abrégé du prolixisme BAL millenovecentosessantanove in collaborazione con Alexandre O'Neill e la parola interdetta poeti portoghesi surrealisti Torino millenovecentosettantuno. Con questo eh con queste notizie in realtà veniamo introdotti nella nell'atmosfera di queste macchine probabili perché ehm Tabucchi in realtà quando parla delle sue pubblicazioni parla di un libro realmente esistito perché il libro che lui pubblica con Enaudi sulla sul surrealismo portoghese ma chiaramente il petit dictionnaire abrégé du prolixisme che è già una eh contraddizione in te di termini non è mai stato pubblicato e addirittura viene scritto BAL come se fosse una località con la cento con l'accento circonflesso come se fosse una località portoghese ma in realtà è una BAL è tutto un gioco quello che è mette in scena Tabucchi con le sue macchine e con le sue macchine probabili i cui mentori sono abbiamo visto la eh la il quelli che che lo fanno pubblicare sono Silvio Guarnieri e Silvio Guarnieri ma troviamo cominciamo a trovare anche degli altri ehm per altri modelli di riferimento ad esempio Alexandre O'Neill che è il poeta amico di Tabucchi il poeta portoghese amico di Tabucchi uno dei maggiori esponenti del surrealismo portoghese che è un surrealismo più tardo rispetto a quello ben più tardo rispetto a quello francese e che diventa sicuramente un modello per queste macchine probabili come si vede da questa macchina che si chiama conversaziofono che viene ehm firmata da Alexandre O'Neill e Antonio Tabucchi ancora una volta vedete che viene tra come se fosse tratta da questo libro che è un libro inesistente e quindi ancora c'è anche c'è il richiamo borghesiano il ma non c'è soltanto nelle macchine probabili il surrealismo portoghese c'è anche un altro modello di Tabucchi un modello a cui non si penserebbe parlando pensando al Tabucchi maturo che è Giorgio Manganelli Giorgo Giorgio Manganelli viene conosciuto da Tabucchi proprio in quegli anni in cui Tabucchi scrive le macchine probabili negli anni settanta è la sua professoressa di portoghese Luciana Segagno Picchio a metterli in contatto e qui vedete che è una macchina probabile si chiama filolofago ed è una ironia nei confronti della delle dispute filologiche e protagonisti di questa macchina sono Luciana Segagno Picchio e Giorgio Manganelli che quindi diventano personaggi all'interno delle macchine probabili di Tabucchi ma che cosa sono queste macchine eh probabili queste macchine sono delle macchine ehm in cui spesso non si sa eh sono delle macchine perturbanti delle macchine eh misteriose come ad esempio quella che trovate eh sulla sulla diapositiva sono macchine di cui a volte viene ehm descritto in modo puntuale il eh il funzionamento ma perché il cui eh fine la cui utilità rimane indecifrabile come ad esempio questa baumia eh baumia scusate che ehm viene così descritta leggo mai usare la baumia a freddo davanti a uno specchio si sa di un tale a Sidney che non prese tale precauzione e finì miserabilmente vittima della sua ingenuità non immaginava neppure quello che può produrre una baumia davanti a uno specchio molte sono così questi molte macchine probabili questi testi narrativi pubblicati dal caffè parla sul caffè parlano di macchine o a volte danno proprio delle indicazioni su come farle funzionare ma noi lettori non sappiamo assolutamente a che cosa servono queste macchine probabili che più che macchine probabili sono macchine improbabili alcune di loro riescono anche sono capaci eh di rendere permeabile la soglia tra i vivi tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti come questa qui che si chiama lo psicopompo in cui un è una in cui viene descritto un sistema eh complesso di eh pompaggio che doveva facilitare il gli uomini nel momento del trapasso quindi porta accompagnarli in modo più ehm dolce dal mondo dei vivi al mondo dei morti ma quello che è interessante che vedete nella diapositiva è il fatto che accanto alla descrizione della macchina c'è un collage un collage che aveva che realizzato da eh Tabucchi che avrebbe voluto accompagnare queste macchine nel se fossero uscite come volume singolo per Sheviller proprio da questi eh collage che sono stati ritrovati da eh Maria Giuseppe Lancastre il le macchine di di Tabucchi sono delle macchine che però esprimono spesso una sorta di tecnopessimismo eh si insiste molto sulla 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 l'importanza dell'artigianato o quando ad esempio si parla di una macchina che si chiama Castex si dice di Castex ne esistono due modelli però si si usi il vecchio tipo come si faceva una volta sembra quasi che eh Tabucchi davanti alla all'avanzare della tecnica sempre più sofisticata voglia opporle una tecnica improbabile come quella delle sue eh macchine. Se si dovesse eh definire qual è il protagonista di queste di questi testi chi è il protagonista di questi testi di queste macchine improbabili di queste macchine macchine probabili. Il protagonista è la lingua. Sono le parole parole che si diventano parole corpo in questi in questi testi di di Antonio Tabucchi in cui sono parole che a volte si mettono al servizio del racconto ci sono alcune macchine probabili che hanno un andamento più narrativo ma altre volte è proprio la parola in sé a diventare protagonista del eh racconto e spesso eh queste parole si affastellano sulla pagina quasi il disordine delle parole fosse un richiamo al disordine del mondo e ve ne ho portate qui eh due esempi di queste parole di queste ebrezza fonica delle delle macchine probabili una si chiama Bagege e l'altra eh Bighera leggiamo vi leggo soltanto quella che si chiama Bagege e eh e questa è la descrizione della macchina. Ciarla, pigola, va in sollucero, sdrucciola, incalza e avventa, richiama l'attenzione, bagisce pietosamente, detesta l'umidità, arriva fino al sorriso, apostrofa con diffidenza, detesta gli ottonari, intristisce tutti i tramonti, si inghiozza quando gli capita, crea problemi di tutti i generi, ma non c'è di meglio per compagnia. Sembra quasi un indovinello. Che cos'è? È un bambino? Un cane? Un animale da compagnia? O forse soltanto il linguaggio che va a brilli e sciolte in questi testi, in molte di queste macchine eh probabili. L'altra, la Bighera, invece abbiamo una sorta di espressionismo linguistico, ancora una volta insomma la la lezione manganegliana è molto presente. ma in questi testi non c'è solo l'espressionismo linguistico, c'è anche una musica più popolare, eh la musica delle la lingua delle filastrocche, delle filastrocche toscane, ad esempio c'è in una eh in un raccoglio, in una macchina probabile, viene ripretto, viene riportata la filastrocca eh staccia buratta e questa attenzione alla 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 musica popolare come eh musica popolare sono le filastrocche, anticipa già il gusto che Tabucchi avrà il Tabucchi che tutti conosciamo per la musica barata, per la musica a buon mercato eh Tabucchi amava utilizzare questo termine preso da un verso del poeta Carlos Drummond de Andrade e questa attenzione alla musica barata, la musica popolare, le canzonette si trovano in molti racconti di Tabucchi, pensiamo al gioco del rovescio ma anche Tristano Muore comincia con Rosamunda, questo gusto per la musica popolare si ritrova già in queste macchine probabili che popolari non sono per niente e vi ho messo anche un eh nella nel diapositivo c'è anche un riferimento al fatto che un racconto di Tabucchi della raccolta L'angelo Nero si intitola proprio Staccia Buratta. Molti di questi testi eh sono testi alla maniere de. Spesso eh Tabucchi come gioca sulla sua stessa produzione quando inventa di avere scritto il libro il petit dictionnaire con Alessandro Nile gioca con la letteratura, falsifica la letteratura e qui ad esempio abbiamo una descrizione di una macchina che era il beatificatore, una macchina che doveva capace di riconoscere la santità dei dei pontefici e quindi poteva evitare le varie dispute sulle beatificazioni e questa descrizione di questa macchina viene eh riportata da Tabucchi come se fosse una descrizione che si trova in Paolo Sarpi, lo vedete meglio se faccio così, nell'istoria del concilio tridentino di Paolo Sarpi con tanto di indicazione del libro, del capitolo naturalmente è una è un gioco, non c'è ed è ehm questo ma non io vi ne ho porto qui, ho portato solo questo esempio ma in realtà ci sono testi alla maniere de Prussa, la eh erodoto, Ovidio eh questo gioco con la la letteratura è molto spinto nelle nelle macchine probabili e ancora una volta c'era una mh questa ancora una volta nella questa macchina sarebbe ehm dovuta essere accompagnata da un altro collage fatto da Tabucchi in cui vi ho cerchiato sulla diapositiva la macchina la la parte aggiunta questa eh questa sorta di cilindro che doveva essere il eh beatificatore. In questo gioco di Tabucchi che eh falsifica la storia, falsifica la storia con l'S maiuscola, falsifica la letteratura e non può che non venire in mente la letteratura come menzogna di Manganelli e questo e Manganelli non è un nome eh appunto l'abbiamo visto personaggio delle lettere probabili, delle macchine probabili ma addirittura in un testo sempre pubblicato sul Caffè nel settantuno eh Tabucchi ehm parla di un carteggio che ehm ci che eh era intercorso tra il il narratore in realtà parla di un un carteggio intercorso tra suo padre Antonio Tabucchi e Giorgio Manganelli nel mille nell'ottobre del millenovecentocinquantacinque. Il titolo di questo eh testo che Tabucchi pubblica sul caffè si chiama scoperta di una vocazione. Un testo inedito di Giorgio Manganelli a cura di Antonio Tabucchi. Il gioco narrativo che Tabucchi mette in scena è veramente vertiginoso e vi basti solo il prima la prima il primo paragrafo che vi leggo per darvi un'idea. Fra mio padre Antonio Tabucchi e Giorgio Manganelli si stabilì intorno agli anni cinquanta sia per amicizia che per comuni interessi artistici una fitta corrispondenza e il testo non è altro che il post scriptum di una lettera inviata da Antonio Tabucchi padre a eh a Giorgio Manganelli su questa scoperta di una vocazione. Cos'è questa vocazione? È la passione per eh fotografare i corpi dei suicidi ed è una passione nata al al padre ed è nata nel padre in seguito al ritrovamento di una eh del corpo senza vita di una zitella la signorina Adelaide e il ehm il l'omaggio ai e a Manganelli è chiaramente evidente però la capacità di eh cogliere il ritratto di un personaggio in quali in poche righe è tutta tabucchiana e vi leggo come viene descritta con una frase questa signorina Adelaide una signorina sessantenne fervente factotum della locale della locale azione cattolica quindi c'è già una capacità che poi eh sarà tipica di Tabucchi di cogliere il ritmo di una vita all'interno di di poche di poche frasi. Le macchine vi dicevo prima sono un laboratorio un laboratorio un'officina del tabucchi e del tabucchi maturo e ehm possiamo ed è poi quello che ci interessa di più se vogliamo al di là delle tangenze con il surrealismo portoghese al di là delle tangenze col surrealismo francese di cui non vi ho parlato ma in una macchina si parla di una macchina ideata da Marcel Duchamp ma ehm al di là delle tangenze con manganelli questi test delle macchine probabili contengono in nuce in filigrana alcuni elementi del tabucchi maturo sono ad esempio il 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 tema del rovello del tempo del tempo che invecchia del tempo che si sente come perduto del tempo che un tempo largo quello tabucchiano che spesso gioca anche dei brutti scherzi ai suoi eh ai personaggi e poi come avrete visto c'è il gioco il tema del gioco che diventa fondamentale in tabucchi a partire dal dal gioco del rovescio ma che eh la raccolta dell'ottantuno ma che è già ben presente in questi testi delle macchine probabili e ce n'è uno di queste macchine probabili che si chiamava che si chiama Telezonzero ehm Telezonzero scusate in cui eh tabucchi riesce a fare un a fare un ritratto dell'Italia alla all'inizio degli anni sessanta attraverso i eh i giochi giochi che un tempo venivano eh che erano giochi in cui c'era una grande creatività che dispiegavano la creatività del bambino e che ora però con gli anni con all'incalzare della con la l'arrivo della televisione il Telezonzero ehm sono il Telezonzero si sono persi e vi leggo un passo da questa macchina probabile che in cui si mh per farvi vedere come questa questo ritratto dell'epoca dell'epoca dell'Italia degli anni della fine degli anni cinquanta inizio degli anni sessanta attraverso il gioco leggo la mosca cieca per Macilente e Gisello e tutte pizzi future factotum dell'azione cattolica il pari e caffo per i ragionieri nati e ancora lo scivolarello lo scaricalasino lo scaldamani giochi inventati lì per lì legati al momento alla circostanza alla disponibilità dei presenti e del terreno giochi di cui restava solo un nome approssimativo dall'accentuazione incerta e dalla metà tesi frequente erano la pratica dell'improvvisazione mestri di vita di tutti noi ma ora che tutto questo non esiste più ora che perfino la scuola ha istituzionalizzato il Telezonzero ora domando io signor presidente dove andremo a finire? Taboni Antucchi cittadino fiorentino perché questa macchina probabile ha la struttura di una lettera e sapremo quante importanza avranno poi le lettere per Tabuchi basti pensare al romanzo in forma di lettere di si sta facendo sempre più tardi ma tornando alla questa macchina probabile in forma di lettera una lettera aperta alla al presidente in cui viene ehm espresso tutto il rimpianto per quella quella allora quell'invenzione dell'allora e per il desolante paesaggio ehm odierno con una firma che è un chiaro anagramma dello scrittore Taboni Antucchi che chiaramente è Antonio Tabuchi e si presenta come cittadino fiorentino e non pisano quindi questo è anche un un altro un gioco continuo anche con la propria autobiografia. Nelle macchine non ci sono soltanto però dei temi che ritornano poi nel Tabuchi maturo come abbiamo visto il tempo, abbiamo visto il gioco ma è interessante anche che queste macchine probabili eh contengono in nuce alcuni elementi di quella che sarà poi la eh composizione della delle storie tabucchiane che quelle quella della la costruzione che avrà Tabuchi nella che avranno poi le storie di eh Tabuchi e in che cosa? Lo possiamo vedere intanto nella eh nel fatto che la musica questa musica popolare di cui vi eh parlavo la musica delle filastroche toscane che si ritrova nelle macchine probabili viene inserita all'interno di eh testi che popolari non sono per niente che hanno delle strutture narrative che sono testi più sperimentali quelli delle macchine e allo stesso modo questa eh capacità che ha Tabuchi di inserire degli elementi popolari come le canzonette all'interno di strutture che popolari non lo sono per niente sarà poi anche utilizzato in Tristano Muore e quindi sulla diapositiva vi ho messo insieme una parte di una macchina probabile in cui nuovamente viene ripetuta una filastrocca e dall'altra abbiamo l'inizio di eh Tristano Muore con la canzonetta Rosa Munda all'interno di un romanzo che è un anti romanzo Tristano Muore in cui abbiamo una costruzione molto più ehm ardita e questo è un gioco che Tabuchi fa in molte sue storie da una parte l'attenzione alla musica barata musica barata sì ma inserita in strutture narrative che lo che sono tutt'altro popolari come i testi delle macchine probabili e un altro elemento che si ritrova nelle macchine probabili e che poi verrà sviluppato dal Tabuchi narratore sono i cosiddetti non detti tabuchiani spesso nelle storie di Tabuchi si dice che sono tramate da Tabuchi ci sono buchi della narrazione Tabuchi ad esempio racconta spesso ehm il insiste molto sulle ricette sulle ricette di ehm culinarie pensiamo a Requiem e poi però nel momento in cui si deve capire qual è il trauma che ruota attorno al personaggio eh di Requiem è un non detto è un ellissi le le storie di Tabuchi sono spesso tramate da questi buchi e questo procedimento si ritrova già nelle macchine probabili a proposito di una macchina che si chiama l'Arianografo e che hm di cui vi vi leggo il la descrizione l'Arianografo la la sua storia quanto meno curiosa mi è stata raccontata dal signora Franio Coutinho Teles di Oporto commerciante in vini pregiati ragioni di brevità e di pudore mi suggeriscono di tacerla che avesse curiosità di conoscerla può farne richiesta all'autore di queste righe via trieste dieci Pisa questa è una macchina probabile questo è il testo di una macchina quindi vedete come la l'ellisse ha l'ellissi ha completamente risucchiato la narrazione allo stesso modo vi ho riportato sulla stessa diapositiva un passo tratto dal gioco del rovescio questa è da lettera da lettera da Casablanca del raccolta il gioco del rovescio in cui si parla di un fatto questo fatto che ha causato il il grosso ehm eh trauma della del dei protagonisti dicendo è il fatto successo in ottobre quello che successe quell'ottobre quindi questa capacità che aveva Tabuchi di costruire le storie attorno a dei buchi a dei buchi della narrazione si trova già nelle macchine eh possiamo trovare già delle anticipazioni nelle macchine probabili l'ultima parte del dattilo scritto che è stato ritrovato presto che doveva essere pubblicato da Shea Willer presenta un appendice storie con il titolo storia autentica di una macchina probabile la macchina in questione si chiama sgovonitore ed è una macchina che riesce a trasformare eh una macchina utilizzata nelle nel nel Luna Park e che riesce a trasformare chi la utilizza in in quello che lui desidera e in cui desidera trasformarsi animale oggetto eh un altro per un un altro uomo e il protagonista di questa macchina probabile di questa appendice che ha un andamento molto più narrativo rispetto agli altri i testi e Natalino Natalino che ha una capacità eh inventiva eh linguistica eh straordinaria e ehm è una eh Natalino è un e Gobbo come viene detto come leggete nella diapositiva però dice Natalino si sfogava con le parole perché era Gobbo e tante cose come noi non le poteva fare questa quindi c'è l'idea di una inventività ehm verbale che eh compensa la deformità fisica con il Natalino utilizza questa macchina lo sgovonitore e si trasforma in un gabbiano e con il volo di questo gabbiano si chiudono le macchine probabili un volo che eh si può anche se volete leggere un po' metanarrativamente come un volo di tabucchi verso altri eh lì di eh narrativi ma in realtà questo capitolo di Natalino di questa macchina dello sgovonitore si trova in un romanzo che è un romanzo inedito che si chiama La bottega dei fischi che eh è stato che si trova anche questo all'archivio a al centro apice e ehm un eh romanzo di cui ehm di cui abbiamo notizie grazie di cui abbiamo anche delle informazioni grazie alla lettera che accompagnava il romanzo e che tabucchi invia a a a che ora vi vi leggo soltanto l'inizio una lettera del settantasette inviata da Vecchiano. Caro eh questa è la bottega rimessa a nuovo. Ora è molto più piccola, sessantasei pagine, più asciutta, più sobria e mi piace di più. Vi ho tolto tutti i capitoli sulla guerra che fra l'altro io non ho conosciuto e aggiunto qualche capitolo sulle biciclette che sono state assieme ai fischi da richiamo le protagoniste della mia infanzia. La rilegga, la troverà abbastanza diversa. Quindi questa lettera intanto ci fa capire che ci sono due versioni e in realtà l'altra versione è pure conservata al fondo Schaeviller però chiaramente oggi per motivi di tempo non non ne posso parlare. Però è interessante come viene presentata questa bottega dei fischi. Un romanzo che ha per protagonisti due oggetti non persone ma sono due oggetti i fischi da richiamo che sono i fischi da richiamo degli uccelli che venivano costruiti dal nonno che del del narratore della bottega dei fischi che aveva una bottega di di fischi da richiamo per gli uccelli e poi l'altro protagonista è la ehm è la bicicletta. Poi nella seconda parte della lettera Tabucchi ehm cerca di di parlare a Schaeviller della sua strategia editoriale. Tabucchi ehm nel millenovecentosettantotto pubblicherà eh presso Mondadori il piccolo eh Naviglio e ehm e e e e chiede quindi a Schaeviller di eh far uscire la bottega dei fischi più o meno nello stesso tempo per sfruttare il la scia parla di scia che farà il ehm il libro pubblicato da eh da Mondadori ma eh altre elementi su questa sulla composizione sulle date in cui Tabucchi scrive questo romanzo si trovano nella dedica che doveva inaugurare inaugurare il romanzo se il romanzo fosse stato eh pubblicato e che ci riportano ancora in cui ritroviamo ancora dei nomi che abbiamo già visto in precedenza. Le storie di questa storia mezza verità e mezza fola le scrissi fra il millenovecentosettantuno e il millenovecentosettantadue riandando con l'immaginazione della memoria alla bottega di fischi di mio nonno dove trascorse la mia infanzia. Le pubblico ora complice Vanni Sheviller dietro l'insistenza del mio amico Silvio Guarnieri il quale per l'immeritata stima che ha loro rivolto ben si merita per Nemesi che gli siano dedicate. Quindi ancora una volta Silvio Guarnieri si eh presenta come il eh il mentore del primo eh Tabucchi. Ma quindi qui lui parla di una composizione del romanzo la bottega dei fischi tra il settantuno e il settantadue però c'è un'altra lettera e questa è stata una piccola scoperta ehm archivistica grazie sempre a Maria Suse de Lancastre in cui eh Tabucchi sovverte la cronologia che noi conosciamo. Per noi Tabucchi comincia il primo libro pubblicato da Tabucchi e Piazza d'Italia nel millenovecentosettantacinque. Ebbene in questa lettera Tabucchi dice che in realtà il primo libro che lui ha scritto non è Piazza d'Italia ma è proprio la bottega dei fischi e vi leggo l'inizio di questa la queste righe di questa lettera. Un'altra curiosità infine sul Tabucchi romanziere. Piazza d'Italia non è il mio primo romanzo in ordine di composizione. Il primo la bottega dei fischi è stato scritto nel millenovecentosettanta ed ha naturalmente molte somiglianze nella struttura e nella composizione con Piazza. Uscirà con la data e potrai constatare. Quindi se noi ehm la cronologia che conosciamo di di Tabucchi dovrà essere un po' modificata perché ehm vi ho messo nella nella slide il la copertina del romanzo che viene pubblicato da Bonpiani nel settantacinque che viene considerato il primo romanzo di Tabucchi ma in realtà il primo romanzo di Tabucchi almeno stando alle parole del dell'autore sono è la bottega dei fischi quel romanzo minimo. È lo stesso periodo un po' più 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 tardo e quello eh trovate la la copertina di di lettere a capitano Nemo che è stato di cui parlava prima anche eh Pierluigi Pellini che eh viene scritto un po' negli anni nel settantasette ma sono tutti e tre la bottega dei fischi Piazza d'Italia e lettera a capitano Nemo dei romanzi con uno sfondo con una toscano particolarmente importante e ora arriviamo a parlarvi un po' di che cosa è questa bottega dei fischi questo primo romanzo che eh eh Tabucchi ehm che che Tabucchi ha scritto. Il il romanzo parla nuovamente il il fulcro del romanzo è un paesino della della campagna toscana che è chiaramente vecchiano come vecchiano è al centro di piazza come al centro di Piazza d'Italia. Ancora una volta nella bottega dei fischi come in Piazza d'Italia c'è la storia con la S maiuscola che si intreccia alla storia privata. ma eh rispetto a Piazza d'Italia lo spettro temporale è molto più ristretto nella bottega dei fischi comincia la con la libera la la narrazione comincia con la liberazione e finisce più o meno con gli anni eh con gli anni sessanta e eh rispetto a Piazza d'Italia però la novità è che se vi ricordate Piazza d'Italia è una narrazione che si svolge alla terza persona mentre la Bottega dei fischi è un narratore un bambino eh un ragazzino narratore che racconta la sua storia quel bambino si chiama Tonino e il ehm i personaggi della Bottega dei fischi hanno tutti i nomi molti hanno i nomi della famiglia eh del lato materno della famiglia di Antonio Tabucchi il nonno Cesarino Pardella l'izi Ferruccio e Cisello quindi eh questa è la novità forse più interessante del del romanzo rispetto alla Piazza d'Italia nella Bottega dei fischi c'è un dato biografico che viene fuori ma non è che la Bottega dei fischi sia la cronaca familiare della famiglia Tabucchi perché è una leggenda se volete è una leggenda familiare quella che racconta Tabucchi nella Bottega dei fischi in cui il dato biografico viene ricreato dalla letteratura anche se i nomi sono veramente i nomi dei nonni del nonno di di Tabucchi o degli zii di Tabucchi e il eh il realismo trascolora nella favola con quel realismo magico che eh si vedeva anche in Piazza d'Italia ad esempio nel nell'episodio di quel Natalino che diventa una ehm una che si trasforma in un gabbiano utilizzando quella macchina del del Luna Park però siccome credo che sia bene quando si parla di un romanzo e voi non l'avete letto questo romanzo darvi un piccolo assaggio della lettura vi ho riportato il primo ehm capitolo con cui si apre il romanzo la struttura del romanzo è una struttura che ricorda anche qui molto Piazza d'Italia perché come vedete dalla diapositiva i capitoli sono molto brevi e ci alternano questi capitoli che sono di una pagina due pagine ehm al massimo e anche addirittura la il tipo di struttura è una struttura che mh è episodi a quadri non c'è una vera progressione eh narrativa non c'è nessuna non c'è nessuna eh building per il narratore protagonista semmai forse c'è un tono che diventa un po' più cupo nella seconda parte con il progredire del con l'avanzare del progresso di quella tecnica come la chiamava lo zio di ehm del narratore che eh porterà da lì a poco a fare scomparire questo mondo a della bottega dei fischi ma arriviamo al al capitolo iniziale che vi leggo passarono cioccolate americane scatolette americane gomme americane sigarette americane morì qualche innocuo fascista dell'ultima ora quelli pericolosi erano già scappati da un pezzo il il paese ballo in piazza il bugi wugi i pakistani avevano occhi grandi e nomi aspirati guardavano la macchina da cucire della nonna con grande stima ma io tutto questo non lo sapevo me lo raccontò mio padre sei anni dopo un giorno che il discorso venne a proposito perché a figliarino era arrivato un piccione dal belgio quindi il ehm come vedete il romanzo si inaugura con la storia con la storia con la S maiuscola con la eh liberazione con l'arrivo degli americani c'è già la dimensione del collettivo il paese che balla in piazza e poi abbiamo un elemento straniante i pakistani quando si parla degli alleati di solito non si pensa immediatamente ai pakistani e invece Tabuchi lo inserisce ed è e lì e lì per attraverso questo elemento straniante dei pakistani nel paese della campagna toscana introduce la storia privata quei pakistani che ammirano la macchina da cucire della nonna e poi con la forte avversativa comincia io la storia privata io ma io tutto questo non lo sapevo e vedete il narratore che il narratore alla prima persona e che poi scopriremo essere chiamarsi addirittura Tonino protagonista del romanzo è il microcosmo di 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 vecchi del del paese del questo paese eh della campagna toscana e il fuori arriva soltanto attraverso questi piccioni viaggiatori come il piccione dal Belgio che arriva nella nel primo capitolo o attraverso delle cartoline quello che interessa è il dentro è questo questo paese questo questo microcosmo in cui ehm popolato da personaggi strampalati da personaggi bizzarri come questo sigarino che ha una sola gamba perché l'altra l'ha lasciata a a Vittorio Veneto e soprattutto come il nonno del narratore il nonno che è il proprietario della bottega in cui costruisce lui manualmente questi fischi da richiamo per gli uccelli e di cui vi vorrei leggere il ritratto perché da anche il se il l'idea anche della del tono del tono anche eh a volte un po' ironico della 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 bottega dei fischi. Come aveva fatto il nonno a vincere la guerra in bicicletta? Le piume del cappello non gli andavano sugli occhi? C'era poca differenza fra il manubrio della bicicletta e i baffi del nonno. Quale dei due aveva preso dall'altro? La reggeva come se la tenesse per mano. Il tutto color giallino. Sul retro con uno svolazzo. Cesarino Pardella, bersagliere ciclista, Vittorio Veneto, novembre millenovecentodiciotto. In cui quindi questa è la è la la figura centrale del del romanzo il nonno il nonno eh Cesarino Pardella che aveva combattuto a Vittorio Veneto con la sua bicicletta. C'è la foto, la foto ingiallita e di foto ingiallita ne troveremo tante come archivi eh non sempre affidabili della della memoria in in Tabucchi e poi abbiamo il eh la la il punto di vista del bambino che eh riduce la guerra a un problema di ehm di piume che vanno sugli occhi al al nonno ciclista che partecipa alla battaglia di di Vittorio Veneto. Il libro eh la la il titolo della bottega dei fischi è un un titolo che potrebbe essere considerato un cronotopo perché c'è una bottega che è il luogo in cui si svolge l'azione e non è un negozio significativamente è una bottega quindi un un tempo così venivano chiamati i negozi e in un tempo legato a quella bottega che è un tempo sospeso un tempo in cui il c'era un rapporto autentico tra l'uomo e la e la natura questo rapporto tra l'uomo e gli uccelli c'è un momento in cui si dice che non erano gli uomini con i loro fischi da richiamo a chiamare gli uccelli ma erano gli uccelli che chiamavano questi ragazzini che andavano a cercarli con i fischi da richiamo questo mondo che si viene sempre più a eh sgretolando con la l'arrivo degli anni sessanta questo eh la la bottega dei fischi eh non viene pubblicato e qui eh purtroppo io non so dirvi esattamente perché non venga pubblicato perché non ho trovato ancora eh le le lettere non ho la 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 ricerca in corso però io azzardo un'ipotesi che probabilmente siamo lui avrebbe voluto pubblicare nel settantasette e settantotto probabilmente ehm la casa editrice Sheviller temporeggia e Tabucchi quando forse ormai Sheviller sarebbe pronto per pubblicarlo Tabucchi e Tabucchi a a dire di no come dice di no quando affirma il contratto con eh il saggiatore per lettere a capitano Nemo perché ormai nella nella alla fine degli anni settanta Tabucchi ha intrapreso comincia a intraprendere delle nuove strade narrative scrive i racconti del gioco del rovescio in cui c'è non è più il Tabucchi toscano ma il Tabucchi che si apre al mondo e probabilmente quindi eh eh pubblicare la bottega dei fischi alla fine degli anni settanta sarebbe stato un po' un guardarsi indietro un guardarsi indietro e non riconoscersi più in quel Tabucchi toscano degli esordi di lui che nell'ottantuno pubblica quel capolavoro che sono il che era la raccolta del gioco del del rovescio però qualcosa rimane qualcosa rimane di eh della bottega dei fischi e rimane in eh Irma Sirena perché all'interno della bottega dei fischi c'è un altro episodio in cui si parla di una sirena che è una ragazzina che in realtà lavora una parca è ehm danza come una sirena in un acquario e un giorno le cresce davvero la coda. Questo episodio della bottega dei fischi verrà poi pubblicato in una raccolta collettiva di racconti per bambini da Feltrinelli negli anni ottanta ma eh quello che è interessante è che nel duemiladiciassette è uscita una bellissima edizione Feltrinelli con le illustrazioni di questo racconto di Irma ehm di Irma Sirena quindi la bottega alcune cose della bottega dei fischi un almeno un episodio della bottega dei fischi si può ancora leggere e eh si può godere eh nella edizione ehm Feltrinelli. Matabucchi era scrittore prima del del caffè prima dei testi delle macchine probabili sul caffè e sono e su questi testi io ehm vi vi lascerò vi volevo vi vorrei parlare di dei racconti di quattro racconti ve ne parlerò solo di uno che Tabucchi scrive intorno alla metà degli anni sessanta. Sono dei racconti potremmo dire perturbanti eh racconti se volete in cui eh sono pervasi da un senso di putrefazione di marcio e di morte e sono dei racconti eh dattiloscritti mh che eh si trovano nell'archivio eh privato di di Vecchiano e ce n'è uno eh di cui vi vorrei parlare brevemente prima di di chiudere in cui ehm il narratore in cui mh siamo la il contesto è questo siamo è un'estate è un'estate a fosa e per i lettori di Tabucchi sappiamo bene quanto l'estate sia la stagione par excellence di di Tabucchi pensiamo a a Requiem per esempio i fantasmi di Tabucchi sono sempre spesso eh fantasmi meridiani in questa estate a fosa c'è il narratore che si incammina verso la stazione improvvisamente abbiamo una sorta di flashback e vediamo lo stesso narratore in una camera mortuaria quando va eh quando va a riconoscere un eh un probabilmente un uomo probabilmente un uno un suo caro che ha avuto un eh un incidente. Torniamo al presente e il narratore arriva alla stazione. Arriva alla stazione e in parla con il barista della stazione che gli dice che c'è stato che i treni sono in ritardo perché una donna si è lanciata sui binari. Il eh il narratore in sta comincia un dialogo con il barista che vi leggo. Accidenti disse lui il barista sulla ruota della della locomotiva c'era il cervello tutto spappolato e fa riferimento a quella donna che si è buttata sui binari. Cosa dissi io? Il cervello. Senta, dissi piano, vuol dire la baumia? Non avrei dovuto dirlo al ragazzo. Finché lo dicevo tra me poteva andare ma non potevo dirlo agli altri. Non avevo potuto farne a meno. Era uscito da sé. La parola era proprio uscita fuori in sostituzione di tutto. Aveva sostituito tutto. Era l'accaduto, l'esattezza, la cosa in sé. Il questo mh breve passo che vi ho letto spero vi faccia mh vi dia la mh salta agli occhi la ehm spero salte agli occhi la capacità che a Tabucchi anche un giovane Tabucchi siamo alla metà degli anni sessanta di creare l'atmosfera e questa sua capacità di creare l'atmosfera pur non raccontando niente ancora i non detti non sapremo che chi è questo perso come mai il narratore si trova alla stazione non sapremo chi è quell'uomo che il narratore ha visto nella camera eh mortuaria ma c'è un altro elemento quella parola quella baumia quella parola che era l'accaduto l'esattezza la cosa in sé e che rimanda a una verità dolorosa profonda ma indicibile baumia è il nome di una macchina probabile l'avete vista prima la ritrovate sulla diapositiva è quella macchina di cui però non si sa a che cosa a che cosa serva si sa solo che ha degli effetti nefasti se non viene utilizzata nel modo corretto cos'è questa baumia ma poi in ultima istanza è proprio necessario andare a trovare il significato di questa baumia io penso che baumia non abbia un significato ma che sia il segno di quella sfida al rapporto tradizionale bionivoco tra parole e cose che Tabucchi lancia sin dalle prime prove sin dagli sin dai racconti sin dalle macchine probabili e che poi sovvertirà esplicitamente nella raccolta del gioco del rovescio fino ad ora io non vi ho parlato del titolo di questo racconto il titolo è l'inizio e quindi mi sembrava che non ci fosse termine e titolo migliore per chiudere o per meglio schiudere questa lezione sugli inizi di Tabucchi dell'inizio estremamente densi estremamente maturi se volete che poi contengono in nuce degli gli sviluppi gli sviluppi futuri del Tabucchi vi ringrazio grazie davvero di cuore a te Arimini per questa bellissima ricchissima lezione eh che ci ha portato da un lato dentro il laboratorio del giovane Tabucchi ma dall'altro ci ha dato anche eh proprio delle prospettive anche molto nuove per esempio questo rapporto con Manganelli che non è affatto scontato per esempio eh questo doppio registro presente già fin dall'inizio perché forse la cosa che mi ha colpito di più sono proprio questi ultimi racconti e qui magari se togliamo il PowerPoint eh eh vediamo magari le persone connesse da casa così eh eh possiamo intanto chiedere eventualmente se qualcuno e innanzitutto Maria José de Lancastre vuole intervenire ma eh e io ne approfitto per colbedire per fare una supplica pubblichiamoli presto questi primi racconti di Tabucchi perché mi sembrano queste 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 poche righe mi sembrano assolutamente così meritevoli di di permetterci di seguire una linea diversa perché poi io sono assolutamente d'accordo con Tea quando dice il gioco del rovescio è il primo grande capolavoro Piazza d'Italia secondo me è un è un romanzo molto bello un romanzo straordinario è un romanzo eh che forse meriterebbe di essere letto e studiato di più però il Tabucchi più importante è quello che inizia con il gioco del rovescio ma forse in questi in questi primi racconti c'è già qualcosa che non sospettavamo che può portare lì insomma quindi grazie davvero eh di cuore eh a Tea io eh apro eh la discussione domande e curiosità eh ma appunto innanzitutto chiedo a a Maria José de Lancastre se vuole intervenire prego eh certo che vogliono intervenire anch'io per ringraziare per ringraziare prima di tutto lei Pierluigi Bellini per questa per questa bellissima idea della lezione annuale che che ci che ci fa di nuovo sentire la voce di di Tabucchi insieme a a delle voci così interessanti come quella di Trevi l'anno scorso o quella di di Tea quest'anno che Tea che ringrazio ringrazio anche lei perché per la sua interessantissima e bellissima lezione e che appunto come come ha detto lei Bellini ci ci fa venire voglia di sapere di più di questi di questi racconti di queste macchine probabili e di altri testi e anche del piccolo romanzo dunque grazie a voi eh io per rompere il ghiaccio chiedo proprio una una semplice curiosità a Tea intanto chiedo a a colleghi e dottorandi dottorande studentesse studenti di prepararsi se vogliono intervenire la curiosità banale è questa nella lettera a Shai Diller eh Tabucchi dice sono rimaste sessantasette pagine ho tolto parecchio ho tolto i capitoli sulla guerra ma allora intanto se tu li hai letti questi capitoli sulla guerra intanto di che guerra si tratta perché la guerra del diciotto del nonno oppure la guerra del quaranta appena finita e poi come sono mi incuriosiscono molto allora le i capitoli sono sulla sulla guerra soprattutto sulla seconda guerra sulla seconda guerra mondiale e eh come sono sono dei dei capitoli come la la struttura è sempre quella cioè questi quadri però erano molto più numerosi e eh si disperdeva un po' troppo la la linea narrativa e vi dicevo che già la struttura è una struttura a quadri a episodi nella prima versione che lui manda a Sheviller era troppo centrifuga se volete questa questa scrittura questa questa struttura e quindi asciuga Tabucchi c'è l'arte del levare che viene messa in atto in all'opera e che poi è anche una delle sue caratteristiche Tabucchi eh uno scrittore che riesce spesso che non non scrive romanzi lunghissimi ma che riesce a condensare in in poche pagine la le vite le le storie dei personaggi e quindi forse in realtà l'operazione che fa di asciugare quella bottega dei fischi che diventava un po' troppo centrifuga è sicuramente una una un'opera di editing di auto editing eh meritoria grazie e allora abbiamo perfino un gelato che funziona cosa rara all'Università di Siena e non so chi vuole intervenire Carlo Caruso grazie grazie della sprendita lezione è una domandina che viene spontanea ma alla quale ha già un po' risposto durante la lezione e cioè se ci sono dei travasi interessanti da queste da questa fase diciamo così primordiale ai libri che sono poi usciti io sono un grande appassionato di piazza d'Italia devo confessare mi chiedo se per esempio i capitoli sulla guerra hanno trovato in piazza d'Italia un così uno sfogo ecco o pensavo anche alla storia del Gobbo che anche lì torna in maniera affascinante in piazza di commovente anche in piazza d'Italia e tante altre cose immagino di cui ci ha già un po' accennato grazie grazie per la domanda sì sicuramente se partiamo dalla fine la figura del Gobbo c'è anche Gaviuri in piazza di in piazza d'Italia è un po' è un po' il il Gobbo credo che possa essere un considerato un po' il il Natalino e poi il Gobbo di piazza d'Italia un po' il il fenotipo di alcuni personaggi tabucchiani che sono apparentemente degli sconfitti il Gobbi con questa deformità fisica ma che in realtà sono ostinati sono il Natalino che ha questa inventività verbale così così forte quindi anche se poi non c'è un vero e proprio travaso eh completo nei romanzi o nel successivi però ad esempio questa il fenotipo del personaggio tabucchiano sconfitto ma ostinato come sarà poi Pereira se volete eh si trova secondo me un po' in alcuni tratti di anche di questi eh di anche di questi personaggi e poi naturalmente c'è anche quello appunto queste la la l'elemento popolare questo doppio registro tra questa attenzione al popolare e contemporaneamente le strutture narrative che sono invece sperimentali che si ritrovano nelle macchine che poi verrà sviluppato anche dopo altri interventi Luigi Pinton grazie grazie mille per la lezione ho una domanda sulle macchine improbabili o meglio sulla idea di letteratura dietro quei testi perché mi hanno fatto pensare a delle dichiarazioni che poi Tabucchi ha fatto più avanti negli anni novanta eh in interviste o in un articolo in cui parla del sulla polemica dopo l'uscita di Pasolini contro Calvino di Benedetti in cui parla del gioco ma lui insiste su un gioco che deve essere un gioco serio e un po' insofferente verso un certo sperimentalismo giocoso eh verso l'ultimo Calvino per dire e volevo calpire se eh visto che lei ha cominciato sottolineando più le continuità che le rotture nel nell'arco della produzione tabucchiana se queste idee che poi esprime Tabucchi sono in contrasto con questi primi testi o se già in questi primi testi eh queste idee insomma come insomma si 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 pongono grazie ringrazio per la domanda molto interessante il il gioco anche in questi testi è un gioco allora dire che ci sono due giochi c'è il gioco che è il gioco la gioiosità il gioco linguistico sicuramente è presente nelle macchine che si chiama macchine probabili e non è improbabili sono macchine sono macchine in realtà improbabili ma il il nome che le da Tabucchi è macchine probabili e ehm c'è da una parte questo gioco linguistico sicuramente ma c'è già anche un gioco che va oltre ad esempio quando eh vi facevo vedere quella racconto sullo telezonzero ehm quel il gioco di quei bambini che nell'Italia della fine degli anni cinquanta giocavano a mosca cieca giro in eh facevano il giro tondo o o inventavano dei giochi lì per lì per passare in modo creativo il tempo è un gioco serio appunto il gioco dei bambini è un gioco che ha una sua validità e che addirittura Tabucchi rimpiange che non ci sia più quell'inventività dei giochi a causa dell'arrivo della televisione quindi credo che io credo che fin dall'inizio Tabucchi abbia questa idea del gioco che va al di là del gioco linguistico che pure lui ehm sperimenta nelle macchine probabili ma è anche un Tabucchi che è la ricerca di una sua lingua e quindi che sperimenta con le gioca con le lingue altrui per trovare la propria lingua gioca con le voci altrui per per trovare la propria voce e già nel nelle macchine probabili io non credo che ci sia una contraddizione con quello che dirà dopo a proposito della ehm contro il gioco degli a lettera di tanta letteratura degli anni ottanta ma che ci siano le due componenti da un lato il gioco linguistico che serve a Tabucchi per giocare con le altre lingue per trovare la propria lingua e dall'altra già quest'idea del gioco che come nella macchina probabile del telezzonzoro era la creatività assoluta del bambino eh del del bambino italiano della dell'Italia degli a della fine degli anni cinquanta e che si viene perdendo io credo che ci siano un po' entrambe la parola Guido Mazzoni grazie per per questa lezione e per tutti gli spunti che conteneva eh vedendo da vicino eh questi testi giovanili di Tabucchi veniva da pensare ad una somiglianza di famiglia che in questa fase mi sembra piuttosto accentuata con eh un quasi coetaneo di Tabucchi cioè con celati con quello che fa celati in in quegli anni eh ci sono quattro anni di differenza eh il la rivista è la stessa il il caffè era un è uno dei luoghi che tengono a battesimo la l'opera di di celati e c'è questa stessa commistione di eh un elemento diciamo calviniano l'influenza di Manganelli l'elemento popolare e le aperture alla eh narrativa eh straniera combinatoria borghesiana eccetera volevo sapere cosa cosa ne pensavi se c'erano ulteriori documenti eh in questo senso sicuramente grazie grazie per per la domanda eh sicuramente i due eh scrittori sono spesso avvicinati eh Tabucchi e celati anche per l'uso della della cultura del dell'arte del dell'immagine della cultura visuale se se volete sia da Tabucchi che che celati scrivono è vero hanno tante affinità tra i ci sono delle affinità sicuramente tra tra i due e come ricordavi la il l'elemento popolare l'apertura alle mh agli mh agli stranieri e anche e vengono ehm e vengono considerati un po' quella letteratura degli anni ottanta ecco quando poi verranno ehm con Tabucchi del 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 gioco del del gioco del rovescio però non non era ecco celati non era tra il tra i tra il tra gli scrittori non io onestamente non non conosco eh scambi tra Tabucchi eh e celati anche se i due sono sicuramente hanno delle affinità e sono spesso anche vicini per il modo il riutilizzo che fanno delle immagini dei quadri nella loro letteratura. C'è una domanda da casa Serena Cianciotto che è una nostra dottoranda. Prego Serena. Grazie mille. Grazie mille per per questa bella lezione. Eh io avrei una curiosità se è possibile approfondire un po' il rapporto con i modelli del surrealismo portoghese. Ora sto pensando in realtà magari in particolare a Mario Cesarini che comunque era un inventore effettivamente di parole quindi magari se può essere stato un modello anche egli o insomma altri altri autori. Eh grazie per per la domanda ehm in realtà lui pubblica eh Tabucchi pubblica sul caffè proprio in quegli anni delle una traduzione da di di Cesarini de Vasconsello quindi è eh in realtà eh in realtà Tabucchi è la è la pubblica sul caffè pubblica delle traduzioni e pubblica una traduzione tratta da ora non mi ricordo quale testo ma una traduzione proprio da Cesarini de Vasconsello e eh in realtà Tabucchi ha contatti con tutto l'ambiente del surrealismo portoghese poi la la finità la finità elettiva è più con Alessandro Neil ma chiaramente tutto il gruppo del del surrealisti portoghesi perché li conosce li conosce quando va eh in Portogallo negli anni sessanta e quindi è una è sicuramente un un è un gruppo e quindi anche Cesarini che traduce sulla sul caffè ad esempio. Grazie. Provo provo io a fare una domanda così forse un po' eh complicata e malposta insomma proprio a proposito di surrealismo di cui si parlava ora eh e riflettendo un un po' più ora eh al di là anche di questi di questi straordinari primi testi che ci hai presentato un po' eh a tutta la la parabola di Tabucchi ecco eh mi sembra che sia eh uno scrittore che eh le sue radici surrealiste passate curiosamente appunto attraverso il Portogallo perché lui era un usitanista ma poi comunque come ricordavi anche tu eh c'è un c'è un eh un legame molto stretto da un lato con il filone borghesiano, Ulipo, Calvino con i distingo che abbiamo detto dall'altro però con tutta la tradizione del surrealismo francese. Ecco mi chiedo se questo elemento forse prima ancora o più ancora della del postmodernismo che ha subito così una censura e una condanna di sinistra molto miope a mio avviso se anche questo elemento surreale non sia uno degli elementi che hanno determinato una certa sfortuna ancora oggi persistente di Calvino presso la critica italiana. Eh di Calvino? Eh sì di Tabucchi ovviamente. Di Tabucchi ovviamente. Eh io ma credo che eh sicuramente il la la secondo me il il problema di Tabucchi nella critica italiana e nell'accademia se vogliamo italiano è stato il il Tabucchi più quando eh il il Tabucchi politico il il Tabucchi angagé. Io credo che quello abbia dato eh fastidio o alla all'intellettuali, all'accademia questo il fatto di esporsi continuamente per sulla scrivere sulle mond avere anche delle eh delle posizioni, prendere posizioni eh in modo anche ehm diverso rispetto a quella che era la sinistra eh istituzionale italiana. Io credo che sia più il 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 Tabucchi politico eh il 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 Tabucchi non politico il Tabucchi angagé, il Tabucchi eh che scrive sui giornali che abbia lo abbia reso un po' ehm che che abbia che che non sia stato apprezzato da una certa accademia, da un certo eh migliere intellettuale italiano come se volesse rifare Pasolini ma in realtà mh Tabucchi in un certo senso è quello che un po' ha con prendendosi le varie querele ha cercato di andando anche controcorrente lo 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 faceva infatti non lo non lo poteva nemmeno più fare sui quotidiani come la Repubblica o ancor meno il Corriere della Sera lo doveva fare sul fatto e poi lo lo poteva fare di più mh all'estero sulle mondo se il paese e non in Italia. Io credo che le posizioni politiche abbiano più inciso su quella che tu dicevi la poca fortuna nella nell'ambito accademico italiano però si spera che ora le cose eh insomma cambino eh e che si recuperi eh tutto Tabucchi. Ci sono altri interventi anche curiosità di qualsiasi tipo? e allora eh ultima chiamata dopo di che e allora ringraziamo veramente moltissimo eh ci diamo appuntamento all'anno prossimo naturalmente non riusciamo mai a rispettare esattamente la data all'anniversario della morte di Tabucchi eh sarebbe stato qualche giorno fa a fine marzo eh ma vogliamo tenerci in questa diciamo in questo in questo periodo primaverile fra 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 la fine di marzo e l'inizio di aprile eh sono bene accette anche da parte di studenti studentesse ovviamente dai colleghi idee su uno scrittore o una scrittrice eh dai non per forza italiano o italiana da evitare il prossimo anno in ogni caso ci diamo appuntamento sempre qui nella no a dire la verità no perché l'anno prossimo l'aula magna di di Fiera Vecchia sarà interessata dai lavori della biblioteca quindi saremo in un'altra aula ma saremo sempre qui a Siena per la terza lezione Tabucchi e intanto grazie davvero di cuore per questa bellissima lezione a te Arimini e grazie ancora per la sua presenza a Maria Fosè dell'Ancastre. Grazie a tutti.